20 luglio 1969 Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità. A scuola vi hanno raccontato che l'Apollo 11 perse il contatto con la Terra per due minuti. Non è vero. Quel giorno trovarono qualcosa che hanno tenuto nascosto per 50 anni e che ora è tardi per fermare. L'ultima ora, il governatore ha ordinato l'evacuazione totale dell'intera costa occidentale. Spostarsi sulle atture è l'unica possibilità per sopravvivere. State svegli, fratelli e sorelle! State svegli, svegli! Questo pianeta ha vissuto cinque estinzioni. Questa sarà la sesta. Siamo morti? No, siamo solo all'interno della Luna. Può essere la cosa più grandiosa che sia mai stata detta. La sia ora più grandiosa per la vista dimensare. Spostarsi sulle attività. Spostarsi sulle attività per di più avzi. L'ultima è difficile. Siamo impostati. No, siamo tutti. Una buonahua. No, siamo solo. No, siamo mai desafiari. No, siamo maiße Hotel. È svegli eterna. No, siamo ovi Оvani bulloni. In un pending.